Vaccini, disdette e rinunce, bisogna avere fiducia nella scienza. Dopo i recenti decessi, l'apertura di diverse inchieste per verificare una presunta correlazione tra casi e somministrazione del vaccino in provincia e crollo della vaccinazione. Solo nella giornata di sabato il 30% dei prenotati non si è presentato al nuovo hub vaccinale di Caltanissetta. Numeri preoccupanti, secondo il direttore generale dell'ASPO Alessandro Paltagirone, che lancia un appello ai cittadini. Abbiate fiducia nella scienza, dice. Rallentare oggi con la somministrazione di fatto comprometterebbe raggiungimento in tempi bravi dell'immunità di massa. Casi in aumento, Caltanissetta verso la zona rossa, i contagi continuano a scendere, ma a Gela nel resto della provincia la situazione è allarmante. Soprattutto Caltanissetta, che in tre giorni registra circa 100 casi, anche di variante inglese. Il sindaco Gambino ha chiuso tutte le scuole e le bille e ha chiesto alla regione di istituire la zona rossa. Psicosi sul vaccino AstraZeneca, con centinaia di prenotazioni annullate. Siragusa ha segretario PD, Greco esca a linea chiara. Ieri l'ex consigliere comunale Guido Siragusa è stato ufficialmente eletto alla guida del PD cittadino. Subentra all'attuale segretario provinciale Peppe Di Cristina, oltre quattro ore di congresso, con la partecipazione anche di esponenti politici locali, di altri schieramenti. Siragusa ha parlato di differenze di vedute che ancora ci sono rispetto alle posizioni del sindaco. Greco, intervenuto ai democratici, ha chiesto sostegno e una linea chiara. PRG da rivedere. Pronte modifiche a norme tecniche. L'assessore all'urbanistica Giuseppe Licata e i funzionari del settore stanno lavorando ad interventi complessivi nel tentativo di adeguare l'attuale PRG considerato ormai non più adatto alle nuove esigenze urbanistiche del territorio. Tra gli altri provvedimenti è già pronto l'atto per la revisione delle norme tecniche di attuazione. PEF Rifiuti, una società affara da consulente, sarà un'unica società a fare consulenza in favore di tutti i comuni della SRR4 che si apprestano a redigere i piani economici finanziari che definiscono l'effettivo costo del servizio rifiuti. La decisione è stata assunta dal presidente della SRR Filippo Balbo che vorrebbe chiudere il capitolo dei PEF, compreso quello del comune di Gela, al massimo entro le prossime settimane. Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano la questione vaccini, infatti dopo i recenti decessi e l'apertura di diverse inchieste per verificare una presunta correlazione tra i casi e la somministrazione del vaccino in provincia è crollo della vaccinazione. Solo nella giornata di sabato il 30% dei prenotati non si è presentato al nuovo hub vaccinale di Caltanissetta. Numeri preoccupanti, secondo il direttore generale dell'ASP Alessandro Caltagirone che lancia un appello ai cittadini abbiate fiducia nella scienza. Rallentare oggi con la somministrazione di fatto comprometterebbe il raggiungimento in tempi brevi dell'immunità di massa. Sentiamo. I recenti decessi dei militari siciliani, il caso dell'insegnante gelese ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta per un'emorragia cerebrale e il fatto che tutti fossero stati sottoposti in tempi e con lotti diversi al vaccino di AstraZeneca stanno pesantemente incidendo sulla campagna vaccinale. Le procure di Siracusa, Messina, Trapani e Catania hanno già avviato un'indagine e a Gela i carabinieri sul mandato della locale procura sabato hanno sequestrato le cartelle cliniche della giovane insegnante. Ad oggi, e doveroso sottolinearlo in nessuno di questi casi, è stato dimostrato alcun nesso di causalità con la somministrazione del vaccino e, d'altro canto, Aifa ed EMA continuano a evidenziare, dati statistici alla mano, che l'AstraZeneca sia assolutamente sicuro. Tanta gente, però, che il vaccino lo aveva prenotato nei giorni scorsi, ha deciso di rinunciare e di disertare l'appuntamento. Nella giornata di sabato solo il 30% dei prenotati, ad esempio, si è presentato al nuovo hub vaccinale di Caltanissetta. Numeri simili anche in città, come racconta il direttore generale dell'ASPA, Alessandro Caltagirone. Abbiamo costituito questo nuovo hub a Caltanissetta. Intendiamo continuare nella campagna e costituirne un altro nell'area sud, ma stiamo registrando una bassa adesione rispetto alle potenzialità dell'hub. da un lato è comprensibile che la gente, un po' impaurita da tutte le notizie che si sentono, prenda la decisione di non presentarsi o, nel caso in cui si presenta, a volte decide anche di non farsi somministrare dal vaccino, venendo a conoscenza che il vaccino è AstraZeneca. Altri invece decidono di portare avanti la vaccinazione e ovviamente il risultato è che su un numero di prenotazioni abbastanza corpose solo il 30% alla fine aderisce alla vaccinazione. Questo è uno scarso risultato se l'obiettivo è quello di arrivare alla vaccinazione completa di tutti i cittadini. Numeri bassi dunque, anche se già da oggi è iniziata una leggera ripresa, ralentare oggi con la somministrazione di fatto comprometterebbe il raggiungimento in tempi brevi dell'immunità di massa. Se non cambiamo passo e non arriviamo a numeri importanti, noi abbiamo stimato di poter fare e poterci dimensionare per fare circa 3.000 vaccini al giorno, se non arriviamo ovviamente a questi numeri è ovvio che i tempi si allungano e quindi non raggiungiamo nell'immediato l'immunità di collettività. L'obiettivo era quello di arrivare entro l'estate a questa immunità, ma dobbiamo assolutamente cambiare passo, altrimenti non ci riusciamo. Caltagirone lancia poi un appello alla responsabilità a chi in questi giorni deve approcciarsi alla vaccinazione. In questo momento la scienza ci dà l'informazione che non ci sono nessi di causalità e che quindi il vaccino è sicuro e ovviamente dobbiamo andare avanti nella campagna di vaccinazione, quindi chiedo alla collettività di mettere a confronto i rischi da un lato, le incertezze dall'altro o le certezze dall'altro ancora e valutare ovviamente di farsi vaccinare perché in questo momento la cosa più importante è quello di raggiungere la famosa immunità e quindi essere sicuri e debellare completamente il virus. E il caso dell'insegnante 38enne colpita dopo aver fatto il vaccino da un'emorragia cerebrale alcuni giorni dopo la somministrazione della prima dose e le verifiche in corso anche a livello nazionale hanno fatto aumentare la paura in città. Tanti utenti già prenotati per il vaccino l'hanno disdetto, una situazione che preoccupa l'assessore Nadia Gnoffo che aveva preannunciato l'intenzione di chiedere una copertura totale sul personale scolastico. In queste giornate di dubbi e di ansia il mio primo pensiero va alla giovane insegnante gelese che sta lottando in un letto d'ospedale. Il mio augurio più grande è che possa presto tornare a riabbracciare la propria famiglia. Adesso è compito dei medici e della magistratura scoprire se la sua condizione sia legata o meno alla somministrazione del vaccino. Ad oggi non è stata dimostrata alcuna correlazione ma è giusto che si vada fino in fondo per far luce su ogni singolo dubbio che questa vicenda può sollevare. Da donna delle istituzioni non posso che manifestare la mia preoccupazione per l'improvviso picco di disdette da parte di chi doveva sottoporsi al vaccino in questi giorni. Avere paura è umano, dice l'assessore, è legittimo ma abbiamo il dovere di fidarci della scienza. Al momento non è stato provato alcun nesso di causalità tra vaccini e presunti gravi effetti collaterali. Le statistiche sul numero complessivo di vaccini somministrati sono confortanti. Per la gnof è fondamentale vaccinarsi anche per superare il prima possibile il contagio. Il vaccino in questa fase è l'unica arma che abbiamo per combattere questo virus. Casi in aumento a Caltanissetta e zona rossa. I contagi continuano a scendere ma a Gela e nel resto della provincia la situazione è allarmante, soprattutto a Caltanissetta che in tre giorni ha registrato 100 casi anche di variante inglese. Il sindaco Gambino ha chiuso tutte le scuole e le ville comunali e ha chiesto alla regione di istituire la zona rossa. Sentiamo. Se Gela sorride con cautela, Caltanissetta piange per la repentina crescita dei contagi. Tant'è che il sindaco del capoluogo Roberto Gambino ha chiesto la zona rossa e ha chiuso da oggi tutte le scuole. A Gela non si registra nessun nuovo contagio da Covid, sono tre i guariti, non sono stati segnalati i casi di decessi. L'unica vittima è un paziente di riesi positivo al Covid. I nuovi contagi in provincia sono 27 di Caltanissetta, 5 di Riesi, 2 di Niscemi e 1 di Butera. La linea complessiva dei positivi in città è a quota 63. In tutta la provincia sono 580 casi positivi in quarantena domiciliare, con Caltanissetta che supera 200 casi, 84 a Riesi, 68 a Niscemi e 63 a Gela. Sono in totale 46 ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva. Preoccupa anche la variante inglese, con casi accertati sia a Gela che a Caltanissetta. Nella notte in una diretta Facebook il sindaco Roberto Gambino ha annunciato la chiusura delle scuole e delle ville comunali. Ci sono stati tantissimi casi, l'aumento è proprio repentino, parliamo che da venerdì oggi ci sono 100 casi in più, quindi questo è molto preoccupante. E allora è preoccupante soprattutto perché questo ci deve fare capire che noi dobbiamo stare molto ma molto attenti. Io uso ormai solo la FFP2, non uso più le mascherine chirurgiche perché ho capito che effettivamente la capacità di trasmissione di questo virus è aumentata. Io non so se è variante inglese o non so che cosa, però effettivamente qualche caso di variante inglese su Caltanissetta è stato documentato, per cui dobbiamo fare tantissima attenzione ai rapporti interpersonali. State sempre a quantomeno un metro dall'altra persona, tenete sempre delle mascherine per la vostra protezione e per la protezione dell'altro, disinfettate sempre le mani. Siamo ripartiti. A Caltanissetta si sta registrando una sorta di psicosi verso il vaccino AstraZeneca che ha portato a una cancellazione di massa delle prenotazioni per il Siero con 194 confermati su 600 prenotazioni. Ieri però l'andamento è stato ribaltato. Su 745 prenotazioni solo 171 hanno deciso di annullare la richiesta, mentre 574 si sono regolarmente vaccinati. Gambino ha chiesto che Caltanissetta venga dichiarata zona rossa. Questa notte stessa procederemo a chiedere al Presidente della Regione che ne ha la competenza l'istituzione della zona rossa per la città di Caltanissetta. Questo perché? Perché il numero di contagi è talmente elevato, è talmente repentino ed è talmente esponenziale che ci obbliga, secondo quelle che sono le casistiche e quelle che sono soprattutto le procedure a fare questa richiesta. Non avremmo mai voluto farlo, però purtroppo è così. Per un giovane ieri non c'è stata la possibilità di avere un controllo da parte dei medici e degli operatori del reparto di urologia del Vittorio Emanuele, colpito da una torsione testicolare, ha dovuto sostenere un trasferimento a Sant'Elia di Caltanissetta perché ormai da tempo il reparto del nosocomio di Caposoprano, diretto dal primario Condorelli, non è attivo a pieno regime, soprattutto nel fine settimana. Nel caso del paziente, addirittura ieri non è stato possibile utilizzare neppure una delle ambulanze, a quanto pare tutte impegnate, ha dovuto attendere l'arrivo di un'altra ambulanza direttamente da Butera, solo così è stato possibile procedere al trasferimento a Caltanissetta. Questa è una delle tante situazioni a limite, è causata come molte altre dettagli che pesano soprattutto sulla salute dei pazienti in città. Cambiamo argomento, ieri l'ex consigliere comunale Guido Siragusa è stato ufficialmente eletto alla guida del PD cittadino, subentra l'attuale segretario provinciale Peppe Di Cristina, oltre quattro ore di congresso con la partecipazione anche di esponenti politici locali e di altri schieramenti. Siragusa ha parlato di differenze di vedute che ancora ci sono rispetto alle posizioni del sindaco greco, intervenuto ai democratici, ha chiesto sostegno e una linea chiara. Sentiamo. Seppur in remoto causa misure anti-covid, il nuovo segretario cittadino del PD Guido Siragusa ha scelto simbolicamente di affrontare il congresso di ieri direttamente dalla sede del circolo Gela Centro. Insieme a lui il neocomponente della segreteria provinciale Giuseppe Favitta Siragusa, riprendendo alcune affermazioni del consigliere civico Davide Sincero, presente come molti altri esponenti politici locali, seppur non aderente al PD, ha ricordato Piola Torre e chiesto che anche l'amministrazione comunale si faccia carico di sostenere la proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista. 18 pagine di una relazione che il neosegretario Dem ha sintetizzato durante il suo intervento. Ha parlato di un incarico di responsabilità, ricordando le sue radici democristiane nel giorno dell'elezione a segretario nazionale del partito di Enrico Letta. Il PD, secondo Siragusa, deve essere un punto di riferimento. ha ringraziato Peppe Di Cristina, attuale segretario provinciale che ha guidato il partito in città. Ha fatto anche riferimento ai tagli della regione, che continua a revocare i finanziamenti, ad iniziare da quello per la darsena commerciale. Siragusa, inoltre, ha ricordato la necessità di ricostruire il centrosinistra locale e di aprire il campo. Qualche passaggio l'ha riservato al rapporto con il sindaco Lucio Greco intervenuto in apertura di assemblea. Secondo Siragusa non bastano alcune affermazioni, ci sono delle differenze di vedute che non sono state ancora superate. Ci sarà eventualmente quindi bisogno di sedersi intorno ad un tavolo per verificare se ci sono le condizioni per avere una vera condivisione per Siragusa, quindi un'eventuale ripresa del rapporto politico con la Giunta va prima di tutto verificata, senza incorrere nei difetti di comunicazione del recente passato, che hanno poi portato i Demma a lasciare Giunta e maggioranza. La posizione di Greco non pare così intransigente e intervenuto in apertura del congresso. Ha detto di attendersi una posizione chiara e netta, senza equivoci dal PD. Si è detto anche certo che responsabilmente il PD non farà mai mancare il sostegno alle scelte delicate che devono essere assunte dall'amministrazione comunale. Secondo Greco, la città non deve cadere in mano a gruppi di potere che antepongono interessi privati a quelli della città stessa. Una tesi che l'avvocato Greco ha spesso rilanciato in più interventi pubblici. La segretaria provinciale Peppe Di Cristina, che pare molto possibilista, ha rilanciato il patto per la città ad allargare ad altre forze. Un varco politico non da poco, soprattutto in una fase, ancora tutta da scrivere politicamente per la Giunta. Per Di Cristina, Gela deve essere come Termini Merese e Taranto in una nuova questione meridionale. Ha voluto ringraziare il sindaco Lucio Greco perché è stato in grado di mettere insieme una coalizione che dà risposte alla città e ha chiuso ad una certa destra. Il segretario provinciale ha comunque confermato tutto il supporto per Siragusa. Il congresso DEM ha aperto a tanti aderenti e sostenitori, ma anche a presenze politicamente non certo così vicine. C'erano anche i sindacati. Siragusa, al termine, ha già definito le prime nomine il vice segretario Elicia Bela, mentre responsabile della organizzazione del partito locale è invece Maria Ferrera. Ma sentiamo le prime dichiarazioni del segretario cittadino del partito democratico Guido Siragusa all'indomani del congresso DEM locali. Vediamo. Il congresso di ieri ha sancito la segreteria di Guido Siragusa. Che PD sarà il partito democratico targato Guido Siragusa? Un PD che sicuramente continuerà ad esercitare un'azione politica così come è stato fatto sinora. Noi abbiamo presentato una relazione, in questa relazione non è un programma per la città, assolutamente ci mancherebbe altro, però è un modo di dire come la pensiamo su alcuni aspetti e come noi pensiamo che Gela dovrebbe essere, dovrebbe diventare. Quindi sarà sicuramente un PD protagonista e un PD che cercherà la forza della comunità per poter andare avanti. Un PD che nasce anche sulla scorta di tante presenze giovani e di tante donne? Tante presenze giovani e tante donne e questo è un punto di forza. C'è un PD che non ritiene che le donne debbano essere una quota rosa, assolutamente, ma che hanno le pari opportunità perché tutto quello che hanno se lo guadagnano e se lo sono saputo conquistare meglio degli uomini. Perché io ho trovato una classe dirigente assolutamente competente e preparata, ma nei giovani è il nostro punto di forza, giovani che chiedono partecipazione, chiedono scelte democratiche e condivise e questo sarà il metodo del nostro partito. È inevitabile parlare dei rapporti con la Giunta e soprattutto col sindaco greco. Ieri il primo cittadino in un intervento durante il congresso ha chiesto al PD di avere una linea chiara nei rapporti con l'amministrazione. Noi abbiamo vinto con lui le elezioni e non abbiamo mai detto che abbiamo sbagliato, anzi abbiamo detto che in quel momento era l'unica cosa da fare e ne siamo orgogliosi di averlo fatto. Però allora abbiamo posto delle questioni e quindi da là dobbiamo ripartire. Cioè nel cercare di affrontare quelle questioni che noi avevamo posto se possono trovare una soluzione. Se trovano una soluzione sicuramente noi non avremmo alcuna difficoltà in ordine politico per riallacciare i ragionamenti e i rapporti con l'amministrazione greco. Se queste questioni non vengono risolte diventa assolutamente complicato. Quindi non è un problema noi cosa dobbiamo fare. Noi cosa dobbiamo fare già l'abbiamo fatto. Se c'è una disponibilità reciproca di ambe le parti, di ambe due le parti, sicuramente troveremo una soluzione. Se non c'è prenderemo atto. La priorità è il primo punto da sviluppare in questo nuovo corso targato Siracusa? Allora è una domanda complicata e difficile. Non è il governo di Centeggio, per l'amor di Dio. Noi stiamo pensando innanzitutto ad organizzare il partito. Ieri ci sono stati tanti interventi qualificati. Interventi del mondo del sindacato, soprattutto interventi che hanno trovato, come possiamo dire, orecchie attende per ascoltarli. Abbiamo avuto anche la presenza di esponenti, di partiti a noi naturalmente alleati e con cui è possibile trovare una strada da fare assieme. Ieri è intervenuto il senatore Lorevice, rappresentante del Movimento 5 Stelle, ci ha invitato e noi questo invito lo coglieremo assolutamente per cercare di tracciare un campo comune. Noi abbiamo l'obiettivo innanzitutto di allargare il campo del centro-sinistra, perché temiamo che a Gela ci sia una destra oggi molto più organizzata di prima. Che se ne dica probabilmente l'argine a destra sta funzionando poco, quindi noi non abbiamo paura del governo delle destre, noi abbiamo paura della politica delle destre che sarebbe una politica nefasta per questa città. Era arrivato in via Cappuccini per un intervento di soccorso, un operatore del 118, Ivano Sortino, è invece finito con una gamba dentro, un tombino danneggiato e non segnalato. Pare abbia riportato una frattura, è rimasto a terra a seguito delle conseguenze subite. Gli sono stati prestati i primi soccorsi e fortunatamente quanto stava accadendo in un'abitazione della zona si è rivelato essere meno grave rispetto a quello che si pensava. Ora verranno effettuati altri accertamenti sull'operatore. L'assessore all'urbanistica Giuseppe Licata e i funzionari del settore stanno lavorando ad interventi complessivi nel tentativo di adeguare il PRG, considerato ormai non più adatto alle nuove esigenze urbanistiche del territorio. Tra gli altri provvedimenti è già pronto l'atto per la revisione delle norme tecniche di attuazione. Sentiamo. Il piano regolatore generale attuale va rivisto. Ci sono limiti da eliminare che non sono più adatti all'attuale situazione della città. Lo spiega l'assessore Giuseppe Licata che in queste settimane si sta confrontando con dirigenti e tecnici degli uffici dell'urbanistica e in avvia di predisposizione un provvedimento che a breve dovrebbe arrivare in giunta. Si tratta di una disposizione per la revisione delle norme tecniche di attuazione. Sono interventi necessari secondo Licata anche in prospettiva del piano urbano del commercio. Attualmente secondo quanto ricostruito anche dai tecnici del settore ci sono disposizioni delle PRG fin troppo limitative e che non sono adeguate alla situazione attuale. Allo stesso tempo Licata e funzionali del settore stanno monitorando le procedure per arrivare alle prescrizioni esecutive. L'obiettivo sarebbe averle entro l'estate. C'è già una bozza ma manca lo studio geologico. Negli uffici dell'urbanistica, spesso al centro di tante polemiche per i tempi lunghi di rilascio delle autorizzazioni e di lavorazione delle pratiche, entro fine mese dovrebbero arrivare quattro tecnici esterni da destinare al condono edilizio. L'avviso è stato pubblicato nelle scorse settimane sulle pratiche di condono. Secondo Licata si sta lavorando a ritmi intensi. Attualmente tre funzionari in servizio riescono a rilasciare tra le 20 e le 30 concessioni a settimana. Quella attuale è considerata una fase molto importante perché molti utenti attendono per accedere all'eco bonus del governo e c'è una vera corsa anche a questo tipo di pratiche. Lo scorso novembre nel PEG sono stati previsti circa 100 mila euro proprio per coprire l'attività degli operatori esterni assicurando continuità almeno per un anno senza rinnovi trimestrali. L'assessore e i suoi tecnici cercano di pianificare interventi in un settore molto delicato, spesso sotto stretta osservazione anche per le ricadute sul territorio. L'ex assessore all'urbanistica Francesco Salimitro che con Licata ha condiviso il percorso nella campagna elettorale di due anni fa. A sua volta ha parlato della necessità di un nuovo PRG così da superare l'attuale ritenuto già vecchio. Sono molto pericolosi e non sono mancati i bambini che sono caduti dopo aver inciampato su alcuni tasselli di fissaggio collocati a terra alla rotonda est di Macchitella a pochi passi dai campi di basket. Un pericolo per tanti anche per chi si dedica allo sport e all'attività fisica proprio in quella zona. Ci sono state segnalazioni ma non sono stati ancora rimossi. sarebbe necessario eliminarli soprattutto adesso che l'amministrazione ha presentato un progetto di riqualificazione della zona con l'inserimento di un'area fitness. PEF Rifiuti sarà un'unica società a fare consulenza in favore di tutti i comuni della SRR 4 che si apprestano a redigere i piani economici e finanziari che definiscono l'effettivo costo del servizio dei rifiuti. La decisione è stata assunta dal presidente della SRR Filippo Balbo che vorrebbe chiudere il capitolo dei PEF compresso quello del comune di Gela al massimo entro le prossime settimane. Sentiamo. Un'unica società la romana Golem NetSRL per fare da supporto a tutti i comuni della SRR per la redazione del piano economico finanziario 2021. Il PEF definisce il costo effettivo del servizio rifiuti e la decisione è stata formalizzata dalla SRR 4 con un provvedimento condiviso dal presidente Filippo Balbo e dal responsabile dell'area tecnica l'ingegnere Grazia Cosentino che è anche dirigente del settore ambiente del comune di Gela. L'attività di consulenza in favore di tutti i comuni dell'ambito compreso quello di Gela è ritenuta necessaria per arrivare alla redazione del PEF in linea con le nuove disposizioni della RERA sul finire dello scorso anno. Il PEF 2020 del comune di Gela non passò dalla votazione del consiglio comunale nonostante altri enti della SRR abbiano invece optato per un percorso differente con il voto delle rispettive assemblee civiche. I tecnici del settore bilancio e il segretario generale di Palazzo di Città spiegarono che le tariffe rimaste invariate e l'approvazione della Tari rendevano non necessaria la votazione del PEF da parte del consiglio. Questa volta si tenterà di condividere un percorso unitario attraverso il supporto della società individuata dai vertici della SRR. Il servizio verrà coperto con una somma di poco superiore ai 13 mila euro. Il presidente Balbo vorrebbe chiudere il capitolo PEF entro le prossime settimane senza attendere fine anno come è spesso capitato in passato. Attualmente la SRR si trova inoltre a dover decidere sul prossimo futuro del servizio rifiuti che non è stato ancora assegnato. Si continua a procedere con ulteriori proroghe a Tecra. Il tiratore gelese Alberto Maganucco ha conquistato il terzo posto alla finale campionato italiano d'inverno presso il campo di tiro al volo Bottaccia di Roma. Il neocampione regionale è stato l'unico siciliano a conquistare la partecipazione alla finalissima di Schitt davanti a 124 partecipanti provenienti da tutta la nazione. La squadra gelese Tav Trinacri è trascinata da Alberto Maganucco e composta da Giuseppe Fruscione, Walter Traenito, entrambi di Gela, Francesco Cantavene, Radilicata e dai romani Alex Mattione e Filippo Criscimanni ha chiuso al quinto posto assoluto tra le società. Siamo stati l'unica squadra siciliana a partecipare con sei tiratori, spiega il campione Alberto Maganucco e presidente della Tav Trinacria, due dei quali di Roma. Con Alex Mattione abbiamo guadagnato l'accesso in finale della prima categoria. Lui ha ottenuto il quarto posto alle mie spalle. La vittoria e il titolo di campione nazionale d'inverno è andato ad Andrea Ghiselli di Pesaro, mentre la piazza d'onore a Massimo Bitullo di Todi. Solo la seconda e terza sessione hanno negato la vittoria al campione gelese che nella quarta e ultima prova ha centrato 24 su 25 piattelli, facendo meglio di tutti gli altri. Vi ricordiamo che da lunedì a sabato dalle 5.30 alle 8.30 potete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale con il QG Time, prima informazione del mattino. Oltre alle ultime notizie potrete vedere anche gli aggiornamenti meteo e l'oroscopo. Potrete seguirci sia sul canale 647 di TeleGela che sulle nostre pagine social Facebook e Youtube. Per tutto il resto potete continuare a seguire il quotidiano di Gela. Grazie per averci seguito. Grazie. 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 Grazie.